Ben trovati amici di Lombardia Notizia Online in collegamento da Palazzo Lombardia e dal bel vedere del 38esimo piano. Siamo in estate, c'è chi pensa alle vacanze, ma c'è anche chi pensa all'autunno, all'inverno e soprattutto dopo la riapertura dei teatri alla nuova stagione e alla programmazione che ci accompagnerà nei mesi invernali. E' proprio in questi giorni venuto a fare visita al presidente della regione Lombardia, Tiglio Fontana, Red Canzian, che tutti noi abbiamo conosciuto come componente del gruppo musicale dei Poo, ma che è anche autore di un'opera teatrale, un musical che sarà in scena al teatro lirico. L'ha intervistato per noi la collega Monica Ramaroli. Sentiamo. Red Canzian, il successo di Casanova arriva a Milano, oggi qui per invitare il presidente della regione Lombardia e un po' tutti i lombardi. Certo, perché abbiamo fatto queste prime trenta date a gennaio e febbraio, è stato un successo insperato e la voglia di tornare a Milano era tanta, per cui saremo al lirico dall'11 al 18, lirico che io ho nella mia mente un ricordo bellissimo perché ho fatto tantissimi concerti con i Poo ed è un po' il salotto bello di Milano. Quindi non vedo l'ora di arrivare a dicembre per fare questa settimana sotto Natale, per cui in un tempo perfetto per andare a gioire di questo spettacolo. I nostri ragazzi sono pronti, i costumi sono bellissimi, la storia è importante, romanzata, parla di una Venezia che non c'è più, una Venezia che insegnava l'arte al mondo, un personaggio come Casanova che nel mio caso si innamora, quindi smette di essere un libertino impenitente e diventa un uomo romantico. Ma per un Veneto cosa vuol dire aver messo in piedi questo musico? Beh, è come raccontare un po' la tua storia, le tue origini, la tua terra, Venezia per me, Venezia è Venezia, è casa, è mamma, è terra, è tutto. Casanova mi ha sempre affascinato perché è sempre stato raccontato in maniera ridotta, quindi sapevamo di lui le sue avventure amorose, ma sapevamo che era un filosofo, un cabalista, un matematico, un filosofo, che ha scritto, che scriveva bene in francese, che ha scritto romanzi, un bibliotecario, un uomo importante. Quanti sono i ragazzi del cast? Abbiamo 21 persone, tra cui 11 cantatori meravigliosi, guidati da Gianmarco Schiaretti che è un artista italiano, credo forse il più richiesto al mondo in questo momento nell'ambito del musical. E poi abbiamo 10 ballerini, scenografie fatte da Massimo Checchetto della Fenice, costumi di Stefano Nicolao, 120 costumi, per cui è una cosa molto grossa e impegnativa. E cosa significa fare un musical in Italia che non è esattamente la patria del musical? Io credo che l'Italia si sta avvicinando al bello e allo spettacolo. L'Italia è stata patria dell'opera, dell'operetta, della musica importante, per cui si tratta solo di riportare, di riabituare la gente a godere di queste cose, perché il teatro apre l'anima, la nutre, ti fa essere più leggero, ti fa capire bene le cose che ti mancano a volte. Magari le ritrovi in due ore di spettacolo, in un teatro, in un palcoscenico, con la recitazione o il canto di questi attori meravigliosi che abbiamo in scena. Vi aspetto all'Irico di Milano a dicembre, quindi sotto Natale, sarà un periodo meraviglioso da passare insieme dall'11 al 18 di dicembre. Vi aspetto. E con questo invito chiudiamo il collegamento da Palazzo Lombardia. Grazie per averci seguito. Continuate a farlo sui nostri profili social e sul sito www.lombardianotizie.online. Alla prossima!